Salone Nautico di Genova 2018, siamo qui in compagnia di Giovanni Tarantino della Res Nautica per presentarvi il Sunbeam 46, l'ultimo modello della Sunbeam Yacht, l'unico grande cantiere da Diporto che è in Austria, è un modello che rappresenta una svolta storica per il cantiere, un vero e proprio cambio di marcia. Giovanni ci puoi dire cosa consiste questo cambio di marcia? Il cantiere Sunbeam è un cantiere nordico, quindi faceva barche con pozzetto centrale, da due anni a questa parte il cantiere ha sviluppato più barche mediterranee, quindi con il pozzetto più comodo anche per i nostri mari e il 46 è la nuova imbarcazione di un segmento più alto che fino ad oggi il cantiere non portava e non rappresentava. La barca comunque è sempre nelle filosofie del cantiere, quindi barca molto solida, fatta per un cliente che la compra per sempre e non per cambiarla, quindi barca costruita anche manualmente ma sempre guardando i presupposti di una barca che deve navigare in tutti i mari e per lunghe navigazioni, quindi è costruita in poliestere però ha tutti i rinforzi in carbonio a partire dall'accoppiamento scafo coperta alle lande, addirittura anche sul salpancore di prua ci sono i rinforzi in carbonio. Tutta una barca strutturale allora? Stutturale, sì, tant'è vero le paratie sono paratie laminate e fazzolettate allo scafo ma anche alcuni mobili sono fazzolettati e laminati allo scafo, quindi tutta la barca ha una struttura unica per far sì che comunque in grandi navigazioni con mare formato la barca non ha nessun tipo di movimento. È una barca comunque da crociera? Da crociera, pienamente da crociera, tutte le manovre sono rinviate a poppa, la barca nasce con 6 winch di serie, nasce con la possibilità di avere sia a prua che a poppa anche l'elica di manovra, quindi possiamo avere nello skeg di poppa c'è già il vano per l'elica di manovra, nel suo standard della barca, la barca già arriva con l'elettronica, arriva già con le vele, con l'avvolgiranda standard e si può avere anche addirittura con dei prezzi molto modici, circa 4.000 euro anche dei colori dello scafo differente. Che è un prezzo veramente molto modico, 4.000 euro per un colore diverso? Tant'è vero possiamo avere il grigio come in questo scafo qui, si può avere un grigio scuro e un blu, tutti questi colori in più nel gel coat sono a 4.000 euro, è un esempio di come il Sunbeam comunque dà un prodotto finale a una cifra molto molto modica senza dover aumentare molto negli accessori. Secondo te è una barca che posso portare in quante persone? Allora, avendo tutte le manovre rinviate con tutti i winci anche elettrici e anche del Genova a poppa, con una sola persona la barca si può portare tranquillamente. E se andiamo sotto coperta cosa troviamo? Allora, la barca come layout iniziale ha una versione 3 gabine e 2 bagni, si può avere anche una versione più armatoriale con la gabina di poppa unica e da quest'altro lato un vano tecnico, in questo caso il bagno di poppa ha una doccia più grande, più sviluppata verso poppa. Io ho visto che la fagnameria è di altissima qualità. Sì, è il nostro perso forte del cantiere, la fagnameria è ancora artigianale dove addirittura si può customizzare l'imbarcazione, cioè se il cliente vuole un mobile piuttosto di un letto o comunque un carteggio differente a quello che il cantiere propone si può tranquillamente modificare il layout interno. Dal momento in cui ho prenoto una barca di questo tipo al momento in cui me la consegnate quanto tempo passa? Circa 5-6 mesi, in 5-6 mesi riusciamo a dare l'imbarcazione pronta a navigare. E siete in grado anche di darmi tutta l'assistenza nel posto vendita in Italia? Sì, noi abbiamo, io come centro sono in Toscana, però abbiamo in vari punti d'Italia altri collaboratori per avere un'assistenza completa in tutta la zona. Oltretutto il cantiere prevede, se il cliente lo vuole, di ampliare la garanzia da 2 fino a 5 anni. Grazie mille. Vi abbiamo presentato il Sunbeam 46 da Genova e vi diamo appuntamento per la prossima anteprima di Solo Vela Net. Grazie mille.